Adesso, dopo una giornata che ha visto relazioni accurate sul contesto generale, relazioni che hanno affrontato aree tematiche e aree geografiche, queste questioni aperte di relazioni internazionali, di politica internazionale, adesso proveremmo a chiedere ai nostri interlocutori di rimescolare le carte, di confrontarsi tra loro essendosi reciprocamente sentiti e provando ad essere un po' meno equilibrati per vedere cosa succede. Una cosa mi sembra che accomuni tutti gli interventi di oggi è la considerazione che siamo di fronte a una fase storica di profondo cambiamento che Leopoldo Nuti, aprendo i lavori stamattina, ha definito di crisi e di altre crisi e che Trentin, da buon ultimo, ha detto nel 1980 gli strumenti e i paradigmi politici e diplomatici ed economici vanno in crisi. Quindi abbiamo chiuso il cerchio, tutti concordano su questo. Da diversi punti di vista è emersa una stagione di grandissimo fermento, elementi di crisi, elementi di cambiamento. Marielle Merlati ha parlato di una malta che è il luogo di incrocio di una quantità di elementi, di dinamiche, di politica internazionale in quel momento e che proprio a metà del 1980 conosce un suo passaggio estremamente significativo. Il Medio Oriente, la Libia, i rapporti tra questi e l'Europa, in un contesto che stamattina Leopoldo Nuti ha tracciato di una crisi di trasformazione delle relazioni internazionali che rimette in discussione il fragile equilibrio della distensione che gli anni settanta sembravano aver costruito e di altre crisi, aprendo quindi poi il discorso degli altri relatori sul Mediterraneo. In questo contesto, quindi, come valutate questo passaggio mettendo i piedi nel piatto dei vostri colleghi? È emerso tutto? C'è qualcosa ancora da dire? Ci sono delle sottolineature da fare? E quando si dice crisi, tensione, quando si dice passaggio di fase, cosa poi significa nella pratica delle relazioni? Alcune cose ci sono state dette, alcune operazioni di scelte diplomatiche, di scelte politiche, di scelte economiche, di tentativi di trovare nuovi equilibri, ma evidentemente non sono ancora fissati. Ci è stato detto con molta chiarezza che queste questioni restano aperte ancora a lungo nel corso degli anni Ottanta. Naturalmente i nostri ospiti sanno dove andiamo a parare, vedere il più possibile da vicino ciò che potrebbe essere stato il quadro di quel giugno 1980, ma non chiediamo a loro di dirci cosa è successo nel giugno 1980, ma di proseguire con una, diciamo, per approssimazioni successive, provare a passare da questo quadro generale, straordinariamente, io credo, efficace ed esplicativo, però a quali potrebbero essere anche implicazioni, o semplicemente la declinazione particolare di quella estate 1980. Naturalmente c'è chi questo lo ha fatto più da vicino, Maria Lemberlati ci ha parlato di una malta, le cui vicende politiche e diplomatiche mutano completamente proprio nel 1980, ma abbiamo visto l'intensità e la densità di accadimenti, la Repubblica Teocratica 1979, la crisi dei diplomatici statunitensi, la scelta, il cambiamento completo di scelta del Politburo, del Partito Comunista Sovietico relativamente all'Afghanistan, nell'invasione dell'Afghanistan, eccetera, 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 è inutile che faccia il riassunto di tutto ciò che abbiamo sentito molto ben rappresentato. Allora, io proporrei scambi rapidi, non vi chiedo un altro intervento, ma vi chiederei più di un giro di opinione, abbiamo un po' di tempo, lo userei così. Per chi è stato il primo a parlare e per la sua autorevolezza, chiederei subito un'opinione a Leopoldo Nuti. Grazie. Grazie di avermi attribuito un'autorevolezza, non so quanto mi aspetti. Mi riserverai di fare un po' di domande ai miei colleghi, se sei d'accordo. Dopo aver prima sottolineato il problema metodologico che ci troviamo ad affrontare, cioè è quello che dobbiamo risolvere ogni qualvolta passiamo, vogliamo chiamare dalla grande storia alla piccola storia, o dal grande affresco e dalle grandi linee di fondo a un problema specifico. Ed è un problema che nel caso della storia italiana crea delle difficoltà oggettive nel elaborare una narrativa condivisa della storia repubblicana. basti pensare al ventennio dello stragismo terrorista, sul quale ancora una identificazione precisa non c'è. E' ustica, seppure si tratti di una strage di tipo ben diverso da quelle causate dal terrorismo interno, fa parte di quelli che chiamiamo banalmente i misteri della storia d'Italia. Questo vuoto tra le nostre ricostruzioni più o meno dotte e erudite, basate sulla documentazione accessibile negli archivi italiani, negli archivi stranieri, e questi episodi specifici di solito siamo riluttanti a cercare di riempirlo. E' quello che dicevo stamattina all'inizio della mia relazione. Perché ci crea dei problemi metodologici, perché siamo abituati a studiare con determinato tipo di fonti, non ci sentiamo sicuri ad avventurarci se quelle fonti non le abbiamo a disposizione. professionalmente ci mette a disagio, mentre non mette a disagio tutta una serie di persone che si avventurano con grande slancio a parlare di cose che magari non sanno, ma che ci ricostruiscono delle narrazioni e dei quadri spesso in totale contrapposizione con quello che noi siamo abituati a studiare. Tanto per non fare nomi, penso alle storie che ci racconta Fasanella, perché quando io leggo quei libri mi chiedo, ma allora io fino adesso ho sbagliato tutto nella mia vita professionale, perché questo mi racconta una storia che io non sono in grado di valutare o di capire con i miei strumenti e con la mia metodologia, perché non corrisponde a niente di quello che mi è stato insegnato e di quello che sono abituato a fare. Quindi uno di noi due ha torto, spero di non essere io. Però mi pone un problema quel tipo di studi, ovviamente, perché mette il dito sulla piaga, su questo iato che noi dobbiamo affrontare quando passiamo dalle linee di fondo, da quello che è possibile raccontare con i documenti che faticosamente riusciamo a mettere insieme, e poi episodi come questo. Come li studi e come li descrivi e come li spieghi? C'è una difficoltà oggettiva. Quindi quello che possiamo provare a fare, come dicevi tu, è procedere per approssimazioni successive e cercare perlomeno di escludere quelli che ci sembrano essere gli scenari meno probabili. In maniera tale da provare a inquadrare quello che può essere successo in un ambito di plausibilità. Credo che di più oggettivamente non possiamo fare, però è un esercizio, almeno stasera, è un esercizio al quale ci dobbiamo abituare e che ci dobbiamo impegnare a fare. Alla luce di tutto questo, vorrei provare a chiedere ai miei colleghi che ne pensano di una serie di ipotesi che mi sono venute in mente ascoltando le loro relazioni. e pongo queste domande come spunti per la riflessione generale. Primo, è possibile che nella politica estera italiana di quegli anni ci fosse una politica filolibica più o meno clandestina che consentiva, come ci siamo sentiti spiegare più volte quando abbiamo discusso di Ustica, il transito di aerei libici sopra lo spazio aereo nazionale? E se sì, questa politica era condivisa da tutto il governo o era il frutto di una scelta di una parte del governo dei servizi, delle forze armate e magari altri esponenti dello stesso governo potevano non esserne a conoscenza? È possibile immaginare uno scenario del genere o invece, se questo è quello che accadeva, tutto il governo ne era a conoscenza, o perlomeno tutti quelli che ne dovevano essere a conoscenza, lo sapevano e quindi era frutto di una scelta ben precisa. Con quale obiettivo? Tenersi buono Gheddafi, immagino, avere buoni rapporti e coltivarsi questo difficile personaggio di cui ci ha parlato Arturo. Collegato a questo, questa è più una domanda e immagino questa domanda la pongo soprattutto ad Arturo. Mariele, se c'è una politica in qualche modo filolibica che consente di utilizzare il nostro spazio aereo agli aerei libici, come puoi riconciliare questo con la politica volta a chiudere l'accordo con Malta di stamani mattina, la politica filolibica è un modo per attenuare l'impatto antilibico della politica che porta all'accordo con Malta, mi chiedo se ti sei posto al problema e come lo hai risolto. oppure sono frutto di due visioni politiche di due gruppi diversi all'interno della classe dirigente. Per Bruna di solito si punta il dito su due possibili autori della strage, o un aereo americano o un aereo francese. La Francia è così avvelenata nel 1980 contro Gheddafi per la questione del Chad soprattutto, immagino, da pensare di imbastire un'operazione di questo genere o per mandargli un segnale o addirittura per cercare di abbatterlo se si potesse immaginare che fosse lui in transito sullo spazio aereo italiano in quel momento. Sappiamo che il capo dei servizi francesi era un personaggio particolarmente intraprendente in quegli anni. È possibile immaginare che abbia autorizzato un'operazione di questo genere? Gli Stati Uniti nel 1980 hanno uno spostamento direi del loro asse di interesse verso la direzione Iran-Afghanistan verso il pendolo più estremo dell'estremo oriente non mi sembrano ancora così incattiviti contro Gheddafi come poi lo saranno sotto l'amministrazione Reagan quando Gheddafi diventa il bersaglio facile per dimostrare che gli Stati Uniti non sono pronti a cedere di fronte a atteggiamenti terroristici in Medio Oriente e quindi si colpisce Gheddafi sostanzialmente perché non si può colpire la Siria perché Gheddafi è una testa di turco più delicata o più facile da attaccare di quanto non sia il regime di Assad. queste sono alcune delle idee che mi sono venute in mente stamani credo che il nostro scopo in questa fase sia questo provare a sbrogliare un po' la matassa anche in maniera brutale magari visto che finora siamo andati in punta di fioretto ora possiamo prenderci mazzate con la clava grazie Leopoldo questo pensavo non per saltare sul modello fantapolitico o della inchiesta giornalistica che con tutto rispetto per inchieste giornalistiche però ha un metodo diverso dalla storia ma per usare rimanendo nell'ambito naturalmente dell'ecito dal punto di vista del metodo scientifico però provare a tirare fuori tutto e a discuterlo in fin dei conti il pensiero scientifico la ricerca procede per modelli ipotetici allora la vera la vera questione è come costruiamo un modello ipotetico che sia plausibile alla politica scientifica poi può essere confermato confutato eccetera bene chi inizia a rispondere alle domande di Leopoldo Nuti Maria Sì allora risponderei Arturo se sei d'accordo toccarei anche la prima domanda che ha fatto Leopoldo a proposito dello spazio aereo nel senso che poi la prima e la seconda sono evidentemente collegate sì c'era consapevolezza della presenza di buchi anche grossi nello spazio aereo italiano però non è una questione clandestina e non è nemmeno una questione dei servizi e non è nemmeno una questione tanto nascosta è noto è noto al governo è noto anche agli altri governi e questo è secondo me un elemento interessante che è emerso dalla mia ricerca archivistica tanto per cambiare i documenti britannici che sono quasi sempre quelli più esaustivi l'evidenza nell'anno successivo nel 1981 di un episodio inquietantemente analogo a quello del giugno del 1980 di cui ho parlato con Daria per cui nel 1981 i britannici parlano dell'episodio che si è verificato per cui un aereo libico volava sui cieli italiani ed è stato seguito da dei caccia italiani che ne controllavano la presenza i britannici citano l'episodio per lamentare i buchi dello spazio aereo italiano e per lamentare una realtà delle cose che non piace e rispetto alla quale bisogna prendere provvedimenti questo nel quadro di un'attenzione a una politica italiana eccessivamente blanda rispetto alla Libia perché comunque nella seconda metà del 1980 e del 1981 lo sguardo degli Stati Uniti come diceva Arturo ma anche della Gran Bretagna rispetto a Gheddafi peggiora drasticamente l'esistenza stessa di tutta una serie di omicidi in Italia di dissidenti libici rispetto ai quali il governo italiano non sembra prendere quella posizione che i partners dell'alleanza si sarebbero aspettati che invece prendesse è una realtà rispetto alla quale appunto in Gran Bretagna si lamenta una eccessiva morbidezza diciamo del governo italiano e si identificano le ragioni di questa morbidezza negli interessi politici economici che legano l'Italia alla Libia per quanto concerne il rapporto di tutto questo con l'accordo con Malta apparentemente è una contraddizione però in realtà non lo è così tanto provo a spiegarmi è vero ho detto che gli italiani sfruttano la frattura tra Malta e la Libia per concludere l'accordo bilaterale perché il deterioramento dei rapporti tra Valletta e Tripoli nella primavera porta Mintov ad accelerare il negoziato con l'Italia e a lasciare perdere l'ipotesi della multilateralità che avrebbe coinvolto anche la Libia però il fatto che l'Italia sfrutti quella frattura non significa che l'Italia vuole dare all'accordo con Malta un valore antilibico è Malta che lo fa l'Italia sta bene attenta a far sì che questo non sia semmai l'accordo è per l'Italia antisovietico e in questo senso si pensa di fornire un servizio all'Alleanza Atlantica e in questo senso quando poi c'è un'implicazione per l'Unione Sovietica l'anno successivo come dicevo alla fine della mia relazione gli italiani pensano di dover essere investiti loro della questione cioè il governo italiano prova non riesce tanto sicuramente però prova a portare avanti una politica che consenta di dialogare tanto con Malta quanto con la Libia certo che dialogare con due paesi che in quella fase sono all'apice della tensione l'uno rispetto all'altro non è facile e in questo senso le azioni finiscono col barcamenarsi per esempio l'invio di un'unità navale perché Mintov lo chiede ma dicendo alla stampa di dire che è per la protezione dei civili proprio per non lanciare un messaggio che non si vuole lanciare perché non si vuole che l'accordo venga letto da Tripoli come funzione antilibica Luca se sei d'accordo prima di passare la parola aggiungerei una domanda così diventa il gioco a Bruna so che mi hai detto tante volte che nelle carte di Giscard non si riesce nelle carte francesi i rapporti con l'Italia non si riesce a ricostruirli però a me interesserebbe sapere proprio di pancia la tua la tua sensazione perché sia sulla base di quello che ho letto io sia poi sulla base di quello che hai detto tu a me sembra che questo rapporto sia un rapporto davvero centrale un po' perché gli interessi sono tanto simili un po' perché gli interlocutori sono gli stessi penso anche a quello che hai detto rispetto all'Iraq e all'Iran e a questa politica francese che comunque con quella parte del Medio Oriente insomma con l'area del Golfo tenta di dialogare anche al di là del dettami di Washington che è un po' quello che sta facendo anche l'Italia tanto con l'Iraq per via del nucleare quanto con l'Iran con la vendita di aerei al di là delle indicazioni ricevute da Washington e poi una documentazione britannica che però riporta i verbali di incontri in cui prendono le parole i francesi in cui la Francia è assolutamente insopportabilmente ostile alla politica italiana cioè alcuni di questi giudizi che vengono espressi sono feroci e a me tutto questo colpisce molto e allora mi piacerebbe sapere la tua sensazione rispetto a questo nucleo per quel poco che abbiamo potuto maneggiare perché io ho la sensazione visto che di sensazioni stiamo parlando con metodo ma di sensazioni che lì si ha un po' tanto il cuore quanto meno politico di un rapporto molto problematico Presidente non so se devo parlare io Arturo Barbelli Arturo sì io concordo pienamente con 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 Mariele cioè la politica estera italiana era era piuttosto allineata sulla 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 questione libica e mi pare che buona parte del governo e delle forze politiche lo fossero ricordiamoci che Gheddafi con la sua retorica antiimperialista teneva insieme l'ADC per motivazioni politiche e economiche naturalmente di vicinanza alla Libia e teneva insieme anche la sinistra anche la sinistra forse più radicale proprio perché Gheddafi mi ricordo su Rinascita ad esempio veniva glorificato e santificato ogni tre per due e quindi fare una politica di apertura di questo tipo verso diciamo un elemento che faceva dell'anticolonialismo la bandiera aveva un vantaggio molto forte per la democrazia cristiana allargava il bacino di consenso di una politica estera secondo me quindi quella politica estera italiana nei confronti della Libia si basava su questa base poi se tutti fossero a conoscenza dei diciamo privilegi che garantivamo alla Libia e a Gheddafi io non lo so dire onestamente e forse è una microstoria nella storia più grande certamente bisogna ricordare che i privilegi che noi garantivamo a Gheddafi non era solo quello del transito degli aerei ma come ricordato da Mariele anche l'uccisione degli esuli noi abbiamo chiuso non un occhio ma ne abbiamo chiusi due sull'uccisione di esuli libici in Italia cosa che non avveniva peraltro solamente in Italia ma avveniva anche in Gran Bretagna ad esempio solamente che la Gran Bretagna reagì in una maniera molto diversa tant'è che tutti gli esuli libici finirono per andare in Gran Bretagna o negli Stati Uniti nel 2011 quando c'è il rovesciamento del regime di Gheddafi noi non abbiamo di fatto alcun esule libico in Italia e non abbiamo come dire nessuna nuova forza libica a cui appoggiarsi sì il solo giallud che andiamo un po' in maniera beh però in maniera un po' comica poi andiamo a cercare di riprendere giallud il numero due del diciamo del regime libico negli anni 70 che cerchiamo insomma di rimettere in piedi ma non ha nessuna valenza politica interna libica e poi anche passaggio di armi perché legalmente certamente ma io immagino anche non troppo legalmente siamo sempre stati tra i maggiori finanziatori da questi fornitori da questo punto di vista del regime di Gheddafi e relativamente alla Francia c'era la percezione di fatto che Gheddafi fosse un uomo dell'Italia e c'è anche una sorta di come dire un po' di enigma storico su questa cosa Fasanella e non solo molti altri ex esponenti del servizio segreti eccetera hanno più volte dichiarato che siamo stati noi a mettere Gheddafi al potere è rimasto un po' una sorta di mito io non l'ho mai riscontrato in alcuna carta diciamo da nessuna parte di nessun archivio non è detto che magari salterà fuori tra dieci anni o domani mattina mi pare che invece siamo stati bravi a farlo diventare un nostro uomo dopo noi nei primi due anni di potere di Gheddafi abbiamo fatto sì che Gheddafi diventasse un uomo nostro siamo stati più bravi degli altri in quel frangente certo abbiamo pagato un caro prezzo che è l'espulsione degli italiani dalla Libia ma liberati permettetemi il termine del fardello degli italiani di Libia abbiamo pagato il nostro prezzo soprattutto per la politica di Moro e del segretario generale della Farnesina Roberto Gaia siamo stati capaci di rimpostare nuove relazioni con Gheddafi e fare sì che diventasse un uomo nostro tant'è forse diventato un uomo nostro ma anche perché l'abbiamo salvato diverse volte abbiamo contribuito a salvarlo diverse volte almeno un paio sono chiare uno è un aiuto che abbiamo dato a un colpo di stato questo piano Hilton del 1971 che alcuni membri tra l'altro ex SAS britannici stavano mettendo in piedi con l'appoggio di ex esponenti della Senussia e lì ci sono delle carte del foreign office britannico non sono chiarissime ma di fatto non negano questa eventualità e noi avvisiamo Gheddafi di ciò magari sarebbe stato un colpo ridicolo e non avrebbe portato conseguenze ma l'abbiamo aiutato il secondo anche questo secondo me è abbastanza chiaro nel bombardamento del 1986 qualcuno Gheddafi lo avvisò tant'è che il consigliere diplomatico di allora Antonio Badini l'ha detto più volte l'ha scritto per la prima volta Gerardo Pelosi su Solo 24 ore proprio in un'intervista sua nel quale Badini dice che noi avvisiamo Gheddafi quindi come dire Gheddafi aveva dei debiti di riconoscenza nei nostri confronti ed è per questo che è diventato un uomo nostro c'è stata la percezione che fosse un uomo nostro non penso che fossimo stati noi a metterlo al potere perché non solo non vi sono le carte ma non penso che fossimo nelle condizioni di poter fare una cosa così magistrale e abile in quel momento io sono stata il bersaglio di una serie di colpi di fioretto o di accetta come quello di Marielle allora il colpo di fioretto di poldo aero americano o aero francese forse un aero francese con i servizi segreti che si muovono in modo più o meno autonomo rispetto al governo naturalmente non si può dire quello che si può dire è che c'è una lunga tradizione dei servizi segreti francesi che si muovono prendendo iniziative autonome di cui il governo viene a conoscenza dopo cioè non sarebbe così strabiliante non sarebbe l'unico esempio quello a cui poldo faceva riferimento era appunto la quantità di veleno che c'era nei rapporti tra la Libia e la Francia e se questo poteva bastare questo veleno a giustificare un'azione insomma di tale portata ora bisogna considerare che durante il settenato Ciscar ma questa insomma non è una caratteristica della Francia di Ciscar è una caratteristica della Francia da sempre la Francia interviene militarmente in Africa se c'è bisogno per salvaguardare gli interessi nazionali o per salvaguardare i governi amici nel periodo Ciscar ci sono tutta una serie di interventi indiretti nello Zaire nel 77 diretti in Mauritania nel 77 e in chat soprattutto nel 1978 e 1980 non so se può essere d'aiuto nel eventualmente unire i vari puntini per vedere che disegno viene fuori considerare la reazione dell'Italia per esempio all'ipotesi di Trilog è una reazione se volete abbastanza di pancia ma interessante perché quando viene lanciata questa iniziativa cioè creiamo questa specie di triangolo virtuoso l'Italia è un po' insomma perplessa e sono perplessi soprattutto insieme all'Italia i paesi nordici della comunità economica europea che sarebbe rienterebbe in ballo in quanto sarebbe uno dei tre vertici del triangolo perché teme cito che con il richiamo alla sicurezza comune la Francia vorrebbe forse ottenere l'avvallo dei partner comunitari per i suoi interventi in Africa oppure si sospetta in Italia soltanto tanto fumo e poco arrosto la Francia vuole che ci sia alla fine una specie di fotografia di famiglia così la Francia può acquisire maggiore prestigio sul piano internazionale quindi per l'Italia l'attivismo francese che non è solo l'attivismo di Giscar ma l'attivismo in generale in Africa causava una certa perplessità soprattutto con riguardo alla questione con la Libia per i confini con quella che ha ricordato Arturo sul problema della banda di Ausù ora il siparietto biografico agli inizi degli anni 90 la questione della banda di Ausù viene portata alla Corte Internazionale di Giustizia e quindi si creano due team praticamente condotti da giuristi di chiarissima fama sul piano internazionale che dovevano essere rispettivamente gli avvocati della Libia e del Ciad nella vertenza e ho avuto la fortuna di far parte di uno di questi team quindi è stato possibile ricostruire la storia di quella contesa frontiera sulla base della documentazione di archivi non solo della documentazione dell'archivi della Farnesina ma tutta una serie di altri archivi dico questo perché se questo era l'interesse che diciamo che la questione della Libia del Ciad era anche diventata a quel punto quando era stata decantata perché la guerra non c'era più una questione che metteva in ballo anche persino gli storici che non sono abituati a lavorare nei casi specifici per me è stata un'esperienza professionale inebriante perché mi si chiedeva la competenza dello storico per risolvere un problema attuale ecco però anche all'epoca se dieci anni dopo gli eventi si continuano a manifestare questo interesse anche da parte dell'Italia evidentemente l'interesse per la soluzione di questo problema che non era solo relativo al fatto che l'Italia aveva era stata la presenza in Libia negli anni nei brevi anni sostanzialmente della fase coloniale dell'Italia ecco vuol dire che si seguiva con grandi interesse l'evoluzione della cosa quello che diceva Mariele possibile che fra la Francia e l'Italia visto che aspiravano a condurre nel Mediterraneo politiche che sia pure prendendolo in cautela sembrano rispondere a medesimi interessi possibile che non c'era un dialogo o al limite uno scontro eventualmente quello che mi sembra di anche qui si tratta di annusare perché nessuno lo dice ma nelle dichiarazioni ma anche negli sviluppi delle relazioni bilaterali al di là della difficoltà di ricostruire le relazioni bilaterali in una fase in cui bilaterale vuol dire molto vedere come i due paesi parlano in occasione di incontri europei per esempio però insomma diciamo che la Francia di Giscar e uso termini neutri non aveva una grande considerazione dell'Italia anzi non ce l'aveva affatto ce l'aveva talmente poco che quando arriva a Mitterrand alla presidenza uno degli obiettivi è di rimettere un po' in piedi le relazioni con l'Italia l'Italia all'epoca per tutti gli anni 70 per la seconda metà degli anni 70 soprattutto fase terrorismo viene vista come un grosso problema un paese che annaspa e tanto è vero che voglio dire dalle Guadalupe prima e dopo il vertice della Guadalupe quando l'Italia venne riconosciuto come il problema con la P maiuscola della comunità occidentale cioè in queste condizioni come fa a essere considerato un partner su un piano uguale la Francia non solo pare ignorarla ma sembra essere anche voglio dire gratificata da questa possibilità di ignorare l'Italia però appunto Mariale si tratta di sensazioni più che altro viste a contrario cioè nell'81 si cerca di recuperare il terreno e e soprattutto con con Miterain soprattutto quando arriverà Crax al potere le cose potrebbero dovrebbero modificarsi però insomma mi sembra che se si fa una specie di come dire istantanea nel 1980 le relazioni fossero nella migliore delle ipotesi inesistenti o nella peggiore connotati dalla tradizionale condiscendenza francese dal tradizionale senso fastidiosissimo di superiorità che la Francia vale però si tratta di affiuto grazie Piero Graia sì c'è anche un'altra cosa forse da dire da aggiungere per quanto riguarda le relazioni italo-francesi nel 1980 il cattivo la cattiva coesistenza all'interno degli organismi comunitari cioè i litigi continui che dividono l'Italia anche attraverso la Corte di Giustizia su questioni commerciali questioni di riconoscimento dei prodotti quindi anche questo entra poi nel pacchetto della percezione dell'altro però a me mi colpisce una cosa quando Arturo dice Gheddafi è il nostro uomo no? io non vedo però questa percezione di Gheddafi il nostro uomo nella vita politica italiana nel discorso pubblico italiano forse Simona Colarizzi domani potrà dirci qualcosa di più da questo punto di vista cioè pensate solo a un fatto nel 1981 viene fatto un grande film una produzione anglo-libica Il leone del deserto su Omar al-Mukhtar cast ed eccezione Anthony Quinn che fa Omar al-Mukhtar poi c'è Oliver Reed che fa il generale Graziani è un film che in Italia viene vietato Andreotti vieta la distribuzione perché vi dipendio le forze armate gli italiani sono i nazisti in questo film cioè si comportano da nazisti la sceneggiatura è britannica e presenta senza peli sulla lingua un'occupazione brutale la repressione filmati d'epoca con i campi di concentramento ecco in tutto questo la percezione del pubblico italiano Gheddafi è un nostro uomo io questa cosa fatico a vederla fatico a percepirla nel discorso pubblico italiano con Gheddafi che ci vuole bene che ci ama tant'è che come dicevate oggi quando Gheddafi arriva in visita da Berlusconi si porta la foto di Omar al-Mukhtar e ci sta dicendo guardate sono tornato ho vinto io lo dice ai libici ma lo dice pure a noi quindi questa cosa colpisce un po' questa dualità posso rispondere sì diamo prego Arturo Varvelli rispondo al volo subito dopo Massimo nel senso che certamente l'italiano medio non ha la percezione che Gheddafi è un nostro uomo anzi non ce l'ha non ce l'ha soprattutto per la retorica anti italiana anticoloniale eccetera poi insomma stiamo parlando di un'Italia anni 70 anni 80 tutto sommato che vive ancora nel mito dell'autoindulgenza verso se stessi verso l'età coloniale bisogna ricordare che fatica facevano gli storici del colonialismo di quel periodo gli italiani brava gente era questo mito e quindi è anche molto difficile sradicarlo questa questa sorta di mitologia ma questo comunque non come dire prescindeva dal fatto che Gheddafi in realtà stabilisse un rapporto privilegiato con l'Italia è tutta una storia di rapporti privilegiati quelli di Gheddafi con l'Italia sul piano molto concreto e reale della politica e dell'economia se noi guardiamo i dati se noi guardiamo all'interscambio se guardiamo alle relazioni politiche se guardiamo alle relazioni politiche in momenti di straordinaria crisi cioè noi questo filo rosso con la Libia non l'abbiamo mai spezzato non l'abbiamo neanche mai spezzato quando lui ci tira i missili su Lampedusa cioè al di là della retorica al di là dello shock e lì cambia la percezione verso Gheddafi in realtà la percezione del pubblico italiano verso Gheddafi cambia dopo quel momento cioè Gheddafi diventa il cane pazzo anche per noi dopo che ci lancia questi due missili questi missili su Lampedusa che probabilmente sono stata una pura dimostrazione di rappresaglia nel tentativo di spezzare il legame tra Stati Uniti e Italia da parte di una Libia disperata che reagiva a un bombardamento statunitense lì è cambiata la percezione naturalmente Gheddafi è diventato un elemento incontrollabile per il pubblico italiano ma nonostante ciò Andreotti è andato avanti anche nonostante le relazioni si fossero formalmente come dire congelate Andreotti e altri leader esponenti hanno sempre cercato di tenere le relazioni con Gheddafi e di narrare e questo è anche stato una sorta di mito di narrare Gheddafi agli Stati Uniti come un elemento che non fosse affatto incontrollabile anzi noi continuavamo a dire a raccontare agli Stati Uniti ai nostri partner ma no Gheddafi insomma è solo cinema insomma in parte era vero in parte non lo era naturalmente sottovalutava alcuni aspetti di inconciliabilità della nostra politica estera perché nel momento in cui che si sono ripresentati tra l'altro si sono ripresentati nel 2011 perché noi nel 2011 ci siamo trovati in una situazione alquanto simile a quella degli anni 80 nella quale avevamo una comunità internazionale completamente schierata contro Gheddafi e noi unici in realtà ad avere nessun interesse a colpire Gheddafi e le vicende successive lo hanno dimostrato in realtà il rapporto privilegiato con la Libia finisce nel 2011 e il tentativo da parte francese maldestro mal studiato di una guerra in Libia perché non ha tenuto in considerazione migliaia di cose innanzitutto che cosa fosse il regime libico completamente sottovalutato l'operazione militare nella nella ipotesi diciamo stupida che potesse fiorire qualche forma democratica pro francese da una situazione nella quale per 42 anni non ci sono state elezioni non ci sono state istituzioni appunto perché era un rente estate Gheddafi non aveva bisogno di istituzioni faceva patronato non faceva uno stato in pratica lo stato era Gheddafi caduto Gheddafi è caduto tutto un sistema e ci siamo trovati nell'anarchia completa e adesso insomma raccogliamo le conseguenze però a raccogliere le conseguenze principali non siamo non sono i francesi non sono i britannici o lo raccogono in minor parte ma siamo soprattutto noi per l'economia per la questione dell'immigrazione per l'instabilità dell'area eccetera il rapporto privilegiato era il nostro loro hanno rischiato tutto i francesi perché tanto avevano poco da perdere noi avevamo tantissimo da perdere era la stessa situazione degli anni 80 noi avevamo tantissimo da perdere relazioni privilegiate in campo economico in campo politico e anche come dire una parvenza di avere in realtà una politica estera autonoma perché questo ci è sempre rimasto un po' con il groppo in gola insomma appartenere al campo atlantico essere dei consumatori di sicurezza a livello internazionale e poter esprimere in piccoli ambiti ogni tanto una politica autonoma e raccontarci narrarci che eravamo autonomi e la Libia la Libia dei Gheddafi ci ha offerto questo in realtà ci ha offerto la possibilità di fare una politica autonoma che però spesso non si è conciliata con una politica atlantica ed europea grazie Massimilio Trentino sì io volevo fare alcune considerazioni che si legavano ancora alle domande agli spunti iniziali io non penso che si possano trovare risposte chiare cristalline definitive su quanto poi si è successo in quel giugno del 1980 però forse delle tracce da seguire per ricostruire quanto meno un tot di movimenti quanto meno si potrebbero forse trovare presso gli archivi dei paesi del patto di Varsavia nel senso che se è vero o quanto meno plausibile che ci fossero questi appunto queste zone grigie questi corridoi che poi non vedo perché anche a un certo punto non potessero esserci bene allora mi domando se questi aerei partivano da sud e andavano a nord qualcuno a nord evidentemente doveva tenerne traccia o quanto meno a tenere diciamo rapporti circa così e guardate per quanto meno per l'esperienza mia degli archivi dell'Est non sono da sottovalutare nel senso di ricchezza di materiale e diciamo di esaustività nella copertura degli eventi anche capacità anche di analisi per cui diciamo se non sono quelli polacchi possono essere diciamo quelli di altri paesi che comunque rapporti con la Libia ne avevano ora per cui la questione è trovare le persone che possano lavorarci e gli archivi dell'Europa ex Europa dell'Est ora diciamo Unione Europea sono relativamente accessibili e fruibili per certi versi molto più di quelli italiani dopo tutto ricordiamoci anche che per esempio ci sono una miniera di informazioni che a mio avviso potrebbero in parte contribuire a ricostruire una parte delle relazioni del contesto tanto per dire sono gli archivi dell'ex Germania dell'Est ora lì c'è tutto nel senso che quello che c'erano più o meno è lì basta saperlo andare a scovare e diciamo nella sistematicità dei nostri vicini del nord hanno ottenuto molte cose tra l'altro però sempre nella ricostruzione degli scenari plausibili non mi sorprenderebbe il fatto che se Gheddafi non era tanto l'uomo degli italiani dopo tutto mi sembra onestamente un po' esagerato un'affermazione del genere molto insomma da da bei titoli di giornale ma poi insomma scusate ma però si fa un altro lavoro e non era proprio così ma non mi sorprenderebbe il fatto che neanche negli archivi dell'Est o quanto meno dell'ex Est trovassimo molte informazioni sulla Libia ma non informazioni completamente esaustive nel senso che se la Libia era un paese ostico anche per i paesi socialisti nel senso lo erano in verità quasi tutti anche partner molto stretti come per esempio come era la Siria con i paesi socialisti le ricerche storiografiche più recenti dimostrano che si erano partner ma in cambio chiedevano che i paesi socialisti non si intromettessero troppo all'interno nei loro affari interni o quantomeno diciamo vi era uno scambio molto selezionato di informazioni come in parte poi succedeva anche nel caso tra Italia e Libia questo mi sorprenderebbe che questo potesse valere anche tra ex paesi dell'est e anche nei confronti della Libia se possiamo fare un parallelo le ultime sono indagini anche storiche nei rapporti per esempio tra Unione Sovietica e Iraq o tra Germania Est e Iraq anche nel campo dell'intelligence la famosa stasi tedesca insomma che sembra che appunto fossero onnipotenti in verità poi non era così insomma viene fuori che i tedeschi e gli altri tedeschi dell'est e gli altri erano estremamente guardinghi e diffidenti dei loro diciamo partner partner arabi perché non si fidavano e non si fidavano anche perché non approvavano quando i paesi arabi andavano ad uccidere gli esuli o gli oppositori iracheni o libici o siriani e quant'altro all'interno dei territori dei paesi dell'est e questo era un tema molto 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 importante per cui però ripeto nonostante questi limiti a mio avviso ci può può essere questa una traccia che forse varrebbe la pena proseguire visto che sono aperti sono lì ma cosa si può fare poi l'ultima cosa rispetto a gli Stati Uniti che si spostano verso il Golfo assolutamente l'impressione però la mia impressione è che siamo nel 79 80 forse è ancora un po' presto affinché vi sia un diciamo una una decisione una politica sistematica nei limiti del possibile organica nei limiti del possibile di spostare e riconoscere che l'asse della politica medio orientale non è più l'asse del Mediterraneo orientale ma bensì è l'asse del Golfo perché onestamente non si sapeva ancora se la rivoluzione in Iran si sarebbe consolidata oppure no siamo nel 79 prima 80 anche insomma c'era veramente abbastanza un po' di disorientamento tanto nella regione quanto nei rapporti interni politici nella regione quanto anche di chi si affacciava e si approcciava cioè gli americani non avevano proprio nessun uomo ancora in Iran durante la rivoluzione almeno per quanto le storiografie un po' più recente sul tema non sapevano chi erano questi qua che avevano fatto la rivoluzione più di tanto perché avevano lo Shave in cambio dell'alleanza strategica aveva già detto agli Stati Uniti togliete tutti gli uomini della CIA che avete nel paese perché tanto sono io la vostra garanzia non occorre che voi sappiate nulla oltre a quello che vi dico io e per cui si sono ritrovati lì e ho detto che succede e chi lo sa per cui forse diciamo era sicuramente è una tendenza questo sicuro perché gli eventi necessariamente portavano verso quello uno spostamento a oriente ma forse nell'ottanta me lo vedo forse un compresso poi per carità posso benissimo sbagliarmi grazie dunque c'è una questione sulla diciamo centralità maggiore o minore della fiducia di Agdafi in Italia e una questione di quanto questi temi siano sviluppati avanzati aperti nel 1980 mi sembra siano queste due le questioni che emergono le altre hanno soddisfatto Leopoldo Nudio? Sì come sempre le risposte alle domande generano altre domande che siamo credo professionalmente siamo abituati a ragionare così e le due domande che mi sono venute in mente sono stamattina a un certo punto ho accennato al rapporto commerciale nucleare italo-iracheno come la ricerca di uno spazio autonomo all'interno di un contesto atlantico è possibile fare un parallelo con quello che diceva Arturo Varvelli per Geddhafi cioè sia il commercio con l'Iraq sia il rapporto privilegiato che si cerca di costruire con la Libia sono in qualche modo i tentativi italiani di avere una politica autonoma nel Mediterraneo o no mi pongo il problema e legato a questo esiste allora una emerge anche da quello che diceva Bruna in parte e da quello che diceva Piero una competizione con la Francia per questi spazi come va interpretata questa è una delle difficoltà maggiori che trovo perché immaginare una competizione con la Francia o con la Gran Bretagna come se fossimo in un contesto completamente avulso dal fatto che esista la comunità europea l'alleanza atlantica e fossimo negli anni 30 in cui non esiste niente di tutto questo che è un po' la sensazione che si ha quando si leggono le storie di Fasanella cioè c'è la competizione tra le grandi potenze per ritagliarsi gli spazi nel Mediterraneo allora però c'è un problema ovviamente perché questa competizione non è così feroce come poteva essere negli anni 20 o 30 però probabilmente esiste allora come si compenetra la competizione commerciale o di ricerca di spazi in Medio Oriente con il processo di integrazione europea perché gli stati che competono per avere influenza in Medio Oriente poi si ritrovano a Bruxelles nei consigli europei i loro ministri si parlano regolarmente i loro diplomatici si considerano alleati Bruna e anche Mariele ci dicono i francesi in quel momento sono ancora più accondiscendenti e presuntuosi del solito va bene ma sono comunque dei nostri partner è possibile immaginare che dei nostri partner spingano questa competizione non sto dicendo no perché evidentemente qualcosa è successo purtroppo ma faccio molta fatica a immaginare che questa competizione che considero tutto sommato di un tono politico più basso di quella di scontro aperto tra grandi potenze possa arrivare al punto tale da organizzare un attacco aereo contro un aereo sia pure libico all'interno dello spazio aereo italiano insomma questo è il problema di fondo è possibile arrivare a immaginare uno scenario di questo genere probabilmente sì però vorrei sentire anche gli altri che cosa ne pensano perché diciamo questo in un certo senso intacca profondamente la narrazione che ci siamo costruiti del processo di integrazione europea perché se questo è vero e questo è lo scenario verso il quale ci indirizziamo allora ma di che Europa stiamo raccontando cioè ma è a un senso immaginare questi sono gli anni in cui l'Europa si descrive come portatrice di pace l'Europa si presenta come potenza civile espelle dal suo vocabolario la retorica della politica di potenza ma insomma è il trionfo dell'ipocrisia però allora diciamocelo che è così e smettiamo di credere nella fatina azzurra non lo so cioè mi pone una serie di problemi di fondo tutto questo che credo ci chiamino alla pugna professionalmente e moralmente grazie Andrea Benetti voleva pure porre questione vieni qua io credo in questo momento di ripetere la domanda che ha fatto il professor Nuti e la banalizzo è possibile che in questo momento storico con le tensioni che avete illustrato e approfondito qualcuno girasse veramente armato perché poi se arriviamo a Ustica gli scenari possono essere diversi allora però davvero la mia prima domanda è questa in quel momento è possibile storicamente che qualche parte di eserciti girasse davvero armato cioè non da parata ma davvero armato io credo che da quello che avete detto è possibile una situazione di grande crisi una situazione in cui si sente il bisogno anche di essere preparati a qualcosa di militare ok dopodiché arrivando a Ustica io credo che dobbiamo dal mio punto di vista bisogna tenere presente due cose se si tratta della Francia è chiaramente un attacco se si tratta degli Stati Uniti è un episodio casuale è un episodio casuale che forse non l'ho sentito ma sono distratto io credo che ci sia un problema in quei giorni Libia e Egitto sono sull'olo della guerra e allora c'è io credo una grande spinta americana a cercare di difendere l'Egitto in un momento di grande tensione e di grande spinta americana a difendere l'Egitto se qualche aereo americano che passa nei nostri cieli si vede un MIG li viene da sparare ma come fatto no non preparato se poi qualcuno di quegli aerei sta portando in Egitto anche delle bombe atomiche e si trova un MIG libico credo che abbia una certa reazione quindi questo è una parte dello scenario che così proprio perché ho apprezzato molto i vostri contributi mi piaceva mettere sul tavolo e l'altra parte è tutto il legame che noi abbiamo con la Libia che è profondo che è fatto come avete bene illustrato ma che è fatto anche di cose che ci siamo trovati nel processo noi abbiamo in Libia degli ex ufficiali dell'aeronautica che preparano i loro piloti noi abbiamo in Libia una serie infinita di attività non dico scorrette però che ci sono in Libia e quindi io credo che possa essere vero che noi lasciamo passare i MIG libici che debbono andare a fare revisione a Bagnaluca perché i libici non sono in grado fino in fondo di gestirsi i MIG ed è chiaro che noi li lasciamo passare poi se e poi adesso ha fatto bene il professor Nuti a prendere le distanze dalle ricostruzioni giornalistiche eccetera però la battuta della moglie americana e dell'amante libica credo che fotografi una situazione molto molto vera ecco le metto tutte insieme a me però io non sottovaluterei il fatto che noi dalla Libia abbiamo portato via solo Zalud Zalud è il braccio destro di Gheddafi e io non so se l'abbiamo portato via per proteggere lui o per proteggere noi io sono convinto che l'abbiamo portato via per proteggere noi perché non possa dire quello che facevamo noi con la Libia più o meno di nascosto ecco allora io parto sempre dalla prima domanda nel quadro che io credo nel mio niente di poter condividere di una grande crisi è possibile e io ci credo che ci siano paesi che armano davvero i loro eserciti o che li fanno girare in una situazione di preallarme o di mezzo allarme e poi io credo che i problemi se vogliamo fare un altro passo non un altro passo una ricostruzione io terrei diviso le due cose se noi pensiamo alla Francia dobbiamo pensare ad un intervento mirato se pensiamo agli Stati Uniti io credo che pensiamo a un incidente poi quella notte nell'ambasciata americana che l'incontro c'è qualcuno ha detto mi hai ammazzato 81 civili e qualcuno gli ha risposto il mic libico però l'hai fatto passare tu il mic libico l'hai fatto passare tu e a quel punto credo che tutte le parti di quella notte abbiano condiviso l'idea che era meglio tacere su tutto e poi però mi incuriosisce molto due cose scusate la prendo un po' quando la signora racconta oddio credo di sì di quante volte la Francia abbia fatto dei giochi un po' sporchi e di quante volte l'Italia abbia salvato Gheddafi e andiamo dentro ad un elemento che ci siamo ritrovati in questa vicenda perché Gheddafi dice l'attentato era contro di me e la soluzione che qualcuno prospetta è che siano i nostri servizi che gli dicono di non passare quella notte su Ustica e che viene fuori e che in questo modo lui esce dalla vicenda e anche lì non lo so vi chiedo scusa e anche lì torniamo alla domanda il governo è consapevole di tutto la disputa fra il capo e il vice capo dei servizi uno filo libico si dice uno filo americano è capita dal governo io non voglio fare sfoggio eccetera eccetera scusatemi ma durante il rapimento Moro mi ha colpito un fatto che in qualche camera a Palazzo Chigi si incontrano e si chiedono ma quante cose sa Moro le sa tutte ne sa un po' cosa pensiamo che possa rilevare rivelare ecco io credo che anche nei nostri sempre nei governi ci possa essere qualcuno che sa di più e qualcuno che sa di meno volevo portare solo queste considerazioni e poi la mia idea però che noi ecco questo mi impressiona quando il professor Nuti dice ma che Europa è però voglio dire l'Eni è quella che ha aiutato la resistenza algerina contro la Francia e quindi voglio dire che al di là di una politica occidentale in cui ci siamo tutti dentro poi ognuno qualche calcio agli altri l'ha sempre data e quindi che ci sia una costante filoaraba dentro al governo oddio io l'ho trovato ecco per tornare a quello che volevo dire che che io ecco la mia domanda è ma io credo io tengo in cuore la risposta che in quei momenti si girava armati davvero e girare armati davvero vuol dire in un modo o nell'altro provocare quella cosa e io credo che gran parte però del nodo sia attorno alla figura di Gheddafi che da quello che ho anche appreso oggi che ci fosse un intervento su Romita l'abbiamo sempre saputo Romita ha anche risposto in tribunale su questa cosa però mi sembra un po' strano che come ci hanno detto in dieci anni di essere 10% della Fiat abbiano chiesto solo l'intervento sul mig libico che può essere legato a Ustica a me sembra un po' troppo non ha chiesto nemmeno di mettere a lavorare due amici ha chiesto solo quell'intervento e a me suona strano perché in questi piccoli documenti che sta mettendo fuori il ministero loro avevano l'assicurazione che noi facevamo tutto quello che volevano su quel mic quindi mi sembra un po' strano che lui però lo faccia chiedere anche direttamente mettendo in moto romite io credo che la figura di Gheddafi sia molto centrale in questa storia mi veniva da dire queste cose grazie grazie sollevate moltissime questioni per cui io proseguirei col giro delle sulla Francia Bruno Abagnato stava per rispondere così risponde anche l'osservazione di Benetti no soltanto per dire che in realtà non deve a mio parere non deve stupire più di tanto che i paesi partner in una serie di organismi dalla CE all'ONU all'Alleanza Atlantica eccetera abbiano poi posizioni divergenti o cerchino di farsi le scarpe in ambienti diversi questo è sempre successo probabilmente sempre succederà anche in una fase in cui sembrava che la comunità potesse davvero ma questo lo dirà meglio Piero potesse davvero parlare con una voce unica ma insomma questo insomma non mi stupisce che ci fossero degli sgambetti fra la Francia e l'Italia e fra chi e infatti quello di cui stiamo parlando appunto è la gravità questo sgambetto arrivava addirittura a quei e su questo io non non posso espormi nel senso che appunto andiamo per passi per approssimazioni successive grazie Piero Grazia ma certo che è verissimo Poldo ma pensi che è un problema veramente per chi studia l'integrazione europea con questa narrazione così l'Europa è un animale a sangue freddo ovviamente non entusiasma ma quando poi ci sono questi momenti di coralità come ad esempio il dialogo euro-arabo la dichiarazione di Venezia e poi dici sì ma se la dicevano veramente o era un anestetico un anestetico per permettere un dialogo con i paesi arabi ed si sa benissimo che gli europei cominciano il dialogo con i paesi arabi con obiettivi economici e di approvvigionamento di materie prime mentre sono gli arabi a cercare la diplomatizzazione del dialogo con gli europei e non ci riescono cosa che trazzo è anche un cruccio degli americani pensando a Camp David che dicono se questi vanno avanti i nove vanno avanti per i fatti loro ci mandano a pallino tutta l'iniziativa di Camp David perché ci staccano dei pezzi del mondo arabo che si mettono a seguire le chimere degli europei e c'è questo problema accidenti se non c'è è fortissima questa narrazione è un po' come andare dal dentista se il dentista ti trapana il dente senza anestesia tu urli ma se ti dà l'anestesia ti può fare delle tane così e non senti niente forse l'integrazione europea funziona un po' in questo modo cioè ti permette di farti trapanare tutti i denti di tenere sopite quelle che sono le forze profonde di conflitto di possibile conflitto di possibile differenza di visione dal punto di vista economico commerciale tra paesi della comunità oggi Unione ma allo stesso tempo rappresentare una narrazione condivisa all'esterno di tutti in pace tutti d'accordo tutto va bene non va bene un cavolo c'era gente armata e come io vorrei anche dire una cosa sull'elemento militare su quello che diceva Poldo l'autonomia dell'elemento militare l'elemento militare è nella sua storia che è autonomo cerca l'autonomia dell'elemento politico comunque se può se lo costruisce se lo ricava se lo mordicchia se lo mangiucchia in quel caso nel caso di cui si sta parlando di Ustica questo dubbio fortissimo dubbio che ci sia un'autonomia chiamiamola così dell'elemento militare nell'evento in sé è fortissimo ma non solo in quel caso l'elemento militare soprattutto nel caso italiano pensiamo a come è stata la mancata defascistizzazione delle forze armate dopo la seconda guerra mondiale lascia degli enormi strascichi di chiamiamola autonomia delle forze armate rispetto al potere politico e tuttora si sente questa cosa ce la raccontiamo ce la riraccontiamo continuamente sui mancati sulle mancate verifiche sulle mancate verità rispetto ai vari piani di aversione sovversione che si sono susseguiti negli anni 60 e 70 quindi accidenti se c'è però io mi occupo di integrazione europea e allora chiudo su questo tema dell'integrazione europea l'integrazione europea prima forse ho dato nella relazione ho dato una visione un po' così idilliaca di questi che si trovano a Venezia sono tutti felici tutti insieme il valore di avere una posizione comune nell'80 nel giugno dell'80 sul Medio Oriente c'è il valore di dire tutti insieme la Palestina i palestinesi devono avere una patria e devono essere dotati di autodeterminazione c'è l'impegno da parte di tutti i paesi a dire proteggiamo Israele dall'elemento arabo c'è la critica velata sotterranea non 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 espressa nei confronti di Camp David come un evento limitato c'è ma nello stesso tempo restano intatti tutti i motivi di lieve lieve o profondo contrasto tra italiani e francesi tra francesi inglesi e italiani eccetera eccetera cioè non è risolutive sono cose che irritano chi studia l'integrazione europea perché ti sembra di studiare in fondo e in fine un qualcosa che poi alla fine è profondamente ipocrita e profondamente e profondamente finto mi ricordo quando quando stavo a Roma 3 ogni tanto parlavo con Poldo e diciamo ma vedi bella questa cosa di integrazione europea e diceva a me piace dove c'è il sangue l'integrazione europea non c'è non c'è niente è tutto finto è una cosa ve la raccontate ve la suonate ve la raccontate insomma non diceva così ma insomma un po' la critica era questa è una cosa un po' finta un po' creata un po' un po' raccontata troppo raccontata e in questo purtroppo devo dargli ragione ahimè esiste però anche un'autonomia della narrazione che è importante anche quella Maria De Mernati mi ha chiesto cosa che sono felice che il collega si è rinsavito è di nuovo tra noi il professor Graia dopo aver condannato l'integrazione europea come festival delle ipocrisie dando ragione è guarito dal figlio è guarito a parte questo a proposito del festival delle ipocrisie e del sangue stavo raccontando prima però mi sembra sensato riportarlo a Venezia non si sono incontrati solo gli europei dieci giorni dopo c'è stato il G7 ed è stato scelto che si facesse a Venezia anche per una questione di organizzazione evidentemente visto che si era mossa una macchina notevole e visto che di nuovo erano gli italiani il paese che doveva ospitare la preparazione del G7 è davvero il festival delle ipocrisie perché dalla documentazione francese queste sono le carte di Giscard è uno dei pochi elementi che emerge dalle carte di Giscard addirittura i paesi che sarebbero stati ospitati discutono in sedute ristrette i testi che poi avrebbero proposto agli italiani come se non fossero stati elaborati prima cioè davvero leggendo quei documenti c'è la sensazione che la fase multilaterale sia davvero l'ultima e assolutamente aliena rispetto ai percorsi preparatori la seconda cosa che volevo dire invece rispetto agli Stati Uniti perché insomma volevo cogliere un pochino la suggestione di Andrea perché è vero forse non ne abbiamo parlato abbastanza di quello che potrebbe essere il ruolo degli Stati Uniti in questa vicenda o comunque insomma della posizione degli Stati Uniti io sono abbastanza d'accordo con quello che dicevi e per questo anche che seguo in maniera un po' scettica le tesi che oggi stanno ricominciando a sorgere piuttosto insistenti sul fatto che forse bisognerebbe iniziare a guardare come maggiormente responsabili gli Stati Uniti rispetto ai francesi sono un po' scettica per due ordini di ragione uno perché nella primavera del 1980 l'amministrazione Carter la Casa Bianca ma anche il Dipartimento di Stato avevano davvero altre questioni da affrontare e se si guardano le carte americane di quella fase c'è il mondo in quelle carte è un mondo davvero problematico e la Libia è l'ultimo delle preoccupazioni nella prima metà del 1980 non è una priorità lo sarà poi con Reagan ma Carter deve chiuderne tante altre e non certo quella per cui effettivamente non c'è una premeditazione politica l'altra questione attiene a questa famosa riunione dell'ambasciata Andrea fa riferimento a una riunione che si è svolta con certezza la notte stessa dell'accaduto presso l'ambasciata americana a Roma che ha coinvolto tutta una serie di personalità centrali per la politica americana in Italia dico certamente anche perché già solo da come ne parla Garner nelle sue memorie si capisce che è una missione Garner dice mi hanno tanto chiesto di questa benedetta riunione io non me lo ricordo di averla convocata se non l'ho convocata io probabilmente l'ha convocata Paganelli che era il suo vice della serie è evidente che questa riunione c'è stata però è anche abbastanza normale che siano stati gli americani a convocarla indipendentemente da quale fosse la nazionalità dell'aereo sui cieli cioè non vedo un rapporto di causa e effetto tra la sovranità tra la mano dell'incidente e una riunione che è in relazione anche a quello che diceva Poldo sulla presenza politica degli Stati Uniti in Italia dai tempi al 1980 abbastanza comprensibile Massimilio Trentino poi giusto sempre un passaggio veloce su integrazione europea e competizione per quanto riguarda il Medio Oriente il Mediterraneo arabo sono sempre stati terreni di caccia di competizione agguerrita canita tra gli stessi paesi membri fondatori delle comunità europee io soprattutto mi sono occupato negli anni 60 ma almeno tanto per dire un paese di cui non si è parlato in questo caso presumo anche ha ragione per esempio come la Germania erano peste corna le riunioni degli attaché commerciali dei paesi europei per discutere delle condizioni economiche di diversi paesi quindi delle opportunità di mercato cioè era veramente erano molto più accanite le riunioni agguerrite a quegli incontri che non molte volte gli incontri con altri paesi terzi tanto per dire e per cui questo che poi per cui onestamente mi fa veramente pensare ad un approccio una politica che onestamente non saprei altro come definire come di mercantilismo puro cioè essenzialmente accappariamoci più quote di mercato possibili accumuliamo più più investimenti più possibili e degli altri all'interno di un quadro di regole comuni sempre più comuni ma poi dove ognuno si porta a casa il più possibile questa è almeno l'impressione l'impressione che io un po' dall'esteroografia oltre che insomma quelle cose che ho visto io se questo poi arrivi questa competizione fino a un livello anche armato onestamente questo è un passaggio è il passaggio sicuramente a mio avviso si può dire perché che se non come scontro diretto diciamo quelle che non mi sfugge il termine italiano però in inglese le proxy war nell'area mediterranea e medio orientale erano all'ordine del giorno un paese che non è stato menzionato qua un'area di crisi che nell'ottanta è fondamentale un terreno di battaglia è Libano bene ricordiamoci che in Libano oltre che era un terreno di scontro di tutti contro tutti fondamentalmente tutti gli arabi contro tutti gli arabi europei contro europei fino ad arrivare a un punto e qua che a mio avviso deve essere ancora investigato bene nell'operazione del poi quando i francesi statunitensi italiani vanno in Libano con le forze di pace due paesi su tre saltono in aria Stati Uniti e francesi cioè i famosi attentati contro la base statunitensi e poi contro i paracoditisti francesi gli italiani non vengono toccati ora senza fare complotti che non esistono questo però questo dà diciamo comunque una riprova di quanto fossero divergenti o diverse le alleanze di conseguenza le politiche all'interno di alleati all'interno di alleati questo significa che poi si facevano la guerra tra di loro a livello armato forse non so dirlo assolutamente però tutti gli altri modi in tutti gli altri modi sì e per cui mi viene da dire si parla spesso di processo di integrazione europea secondo le parole chiave come allargamento approfondimento integrazione e quant'altro onestamente un po' cinicamente vorrebbe dire da aggiungere anche un altro esternalizzazione cioè le tensioni interne gli scontri i conflitti che l'Europa ha sempre coltivato e curato al proprio interno non per fortuna non potendo non potendoci più far la guerra ho come idea che in un certo mondo postcoloniale diciamo gli europei volentieri diciamo se lo siano fatte diciamo per procura ecco scusate il proxy war e le guerre per procura esternalizzandole nei confronti di altre aree allora questo forse mi rende conto che sia un po' una provocazione però onestamente non non l'escluderei in termini di competizione interessante provocazione abbiamo chiesto la parola a Mario Vadacchino che sarà relatore domattina ma è Politecnico di Torino quello che ha guidato le perizie sul relitto la Francia non appare mai nelle inchieste si parla solo di americani la telefonata l'ambasciata la saratoga il serbatoio sicuramente quello che resta delle telefonate tra i centri radar militari indicano un interesse per gli americani la Francia appare primo con questa discussa prima campagna di recupero fatta da questa società IFREMER adesso io non so io avevo dei colleghi francesi che apparteneva al consiglio nazionale delle ricerche francese quando io ho detto ma è vero che legata ai servizi segreti loro sono cascati dalle nuvole come se dicessero che l'istituto metrologico di Torino nazionale è legato cosa vuol dire essere legato ai servizi segreti di un qualche paese è una cosa per il resto la Francia entra in questa questione con la deposizione del generale Bozzo che era a Solenzara e dice che la sera del 26 c'era traffico aereo quando loro avevano dichiarato i francesi che la base aveva chiuso alle 8 di sera esiste una sottile traccia ed è che nel centro del Mediterraneo circa mezz'ora prima dell'incidente c'è una traccia radar adesso domani non ne potrò parlare che si muove molto lentamente e che viene inter e può essere interpettata interpretata come il segno di un elicottero che presidia il posto quando si fanno operazioni delicate per esempio per recuperare il piloto o qualcuno che è caduto in mare la pista francese ha avuto un grande risonanza con la testimonianza di Cossiga perché Cossiga che ha detto sono stati i francesi i francesi erano vicini mentre gli americani da dove sono partiti gli aerei non si capisce bene i francesi hanno questa base messa lì e quindi sono degli indiziati molto concluderei con una osservazione che quando io la sentì durante il processo mi parve equivoco il generale Arpino parlando della situazione disse una frase che affossava gli imputati cioè lui disse guardate che nel 1980 appena c'era un sospetto che in qualche operazione poco chiara ci fossero gli americani gli ufficiali dell'aeronautica tentavano di coprire era gente che era stata negli Stati Uniti senza per principio siccome c'era il sospetto degli americani bisognava coprire naturalmente è poco chiaro se questo era un aiuto ai generali o no quello che è curioso e concludo è che tutto questo lavoro fatto nell'ipotesi che siano stati gli americani è quello che è stato al centro di tutti i lavori sia nei tribunali sia nelle ricerche i francesi non appaiono assolutamente mai nei dati se non la base di Solenzara e Bozzo è questa traccia così dubbiosa quindi se e concludo veramente se sono stati loro sono stati bravi è fatto un delitto perfetto grazie grazie in effetti i francesi compaiono due volte ma sono due volte pesanti una è la menzogna sull'uso della base di Solenzara e l'altra è la battuta di Cossiga mi sembra non poco compaiono poco ma quelle poche volte sono pesanti Arturo Varvelli sono degli interventi residuali miei su alcune cose innanzitutto le domande di Leopoldo Nuti sono estremamente stimolanti le risposte invece possono essere solo banali e non basate su una ricerca storica io non ho mai fatto ricerca storica su questo periodo cioè quindi o se l'ho fatta l'ho fatta su fonti secondarie penso che tutto sommato la sentenza scritta e l'inchiesta di Priore però ci fornisca alcuni elementi da un certo punto di vista lui ha fatto una ricostruzione storica molto faticosa che però in realtà tiene realmente conto del contesto internazionale cioè lui non ha fatto altro che contestualizzare nella sua inchiesta contestualizzare storicamente i fatti e se delle piccole verità cominciano a uscire e noi ora ci troviamo in una situazione diversa rispetto a 15 anni fa 20 anni fa lo dobbiamo soprattutto alla contestualizzazione contestualizzazione che cerchiamo di fare anche noi oggi quindi speriamo in realtà che gli archivi soprattutto italiani ma di solito arrivano prima gli archivi stranieri ci rivelino dei tasselli di verità maggiori di anno in anno secondo me è importante anche il periodo successivo per capire Ustica forse l'unica cosa che non è tanto uscita perché è importante capire anche quali sono state le interferenze internazionali diciamo nel processo nel processo di investigazione sul caso io penso che abbia avuto un'evoluzione dello scenario internazionale abbia complicato ulteriormente l'inchiesta cioè il fatto che gli Stati Uniti si fossero come dire concentrati contro il nemico pubblico Gheddafi nelle fasi successive a questo scontro a questo incidente all'incidente di Ustica ha complicato notevolmente la verità la ricerca di una verità giudiziaria prima e poi storica secondo me perché naturalmente gli Stati Uniti non avevano alcun interesse a far uscire la verità su questo e anzi a probabilmente continuare a mantenere un'ombra di responsabilità su Gheddafi relativamente a questo incidente e quindi probabilmente bisogna contestualizzare non solamente quel periodo storico ma anche tutto il periodo successivo ed è un altro lavoro che è ancora forse più difficile di quello da fare sul 1980 grazie li ho poi venuti il provocatore tiri le somme delle provocazioni il provocatore è a corto di risorse a questo punto per rispondere alla sollecitazione di Andrea giravano armati e sì e il senso credo della mia relazione stamattina era proprio di andare in questa direzione cioè se si tratta di contestualizzare non c'è dubbio che dal un certo momento del 1979 il livello di tensione si innalza ma si innalza pesantemente si innalza quello bipolare innanzitutto ma si innalzano anche tutta una serie di tensioni locali che al conflitto bipolare si rifanno solo in maniera indiretta e che pure però ci si intrecciano e credo che questo innalzamento del livello della tensione faccia sì che si sia più pronti a sparare cioè non è un caso che questa tragedia accada nel 1980 e non in un altro momento in cui lo spessore della tensione internazionale è minore questo il senso della tua domanda credo fosse questo insomma è più facile avere il dito sul grilletto in quel momento perché c'è un accumulo di crisi e di nervosismo diffuso che rende più probabile che purtroppo si ricorra anche a misure estreme che forse in altri momenti si sarebbe stati più cauti ad adottare capisco l'osservazione che facevi tu sulle tracce diciamo la mia perplessità nei confronti di tutti gli scenari che abbiamo individuato nasce dal fatto che si tratta comunque la simetta di un'operazione di guerra condotta da un paese alleato all'interno dello spazio aereo di un altro paese alleato e insomma è una roba enorme in qualunque modo la si voglia definire da un punto di vista concettuale se devo accettare che si tratta di una cosa del genere e mi sembra che la conclusione sia inequivocabile oggettivamente ma forse perché mi sono occupato di più della politica americana in Italia faccio più fatica a immaginare che siano stati gli Stati Uniti per la enorme cautela con cui sono sempre stati attenti agli equilibri della politica interna italiana e il che non toglie che poi ci siano momenti in cui soldati americani in Italia si considerano del tutto autonomi e fanno la tragedia del Cermis fermo restando che pochi anni prima era stato un aereo italiano a fare la stessa cosa alla funivia del Falzarego lì non sono morti perché per fortuna è rimasto in funzione del cavo di sicurezza la funivia del Falzarego è rimasta sospesa per alcune ore fin quando tutti i passeggeri sono stati evacuati ma era stato un aereo italiano che aveva fatto la stessa furbata dei piloti dell'aereo americano al Cermis me la immagino con più difficoltà un'operazione americana per questa enorme cautela americana all'equilibrio politico interno italiano che resta per loro l'obiettivo numero uno in Italia è più importante la stabilità italiana di Gheddafi per cui rischiare la stabilità italiana per abbattere Gheddafi mi sembra un'operazione che un ambasciatore americano difficilmente avrebbe autorizzato quindi gliel'hanno fatta sotto il naso allora Garner dice io non lo so perché in realtà non ne sa niente e poi perché come diceva Marielle in quel momento hanno il piatto pieno di tante altre preoccupazioni e non mi sembra che la Libia sia una priorità ecco per cui se devo fare il famoso ragionamento in base a cui prodest mi sembra che in quel momento l'interesse maggiore a fare un danno alla Libia ce l'abbia la Francia di quanto non ce l'abbia gli Stati Uniti detto questo però sono ovviamente sono calcoli fatti in base a quello che mi sembra più plausibile però non me la sento di escludere nell'uno o nell'altro scenario grazie avevamo detto di rimanere nell'ambito della plausibilità perché questo ci consentiva di ci avrebbe consentito di mettere in evidenza elementi di quel contesto storico mi sembra che non ci siamo mai detti arriveremo a delle conclusioni abbiamo detto che avremmo provato a vedere quali erano gli elementi di contesto e mi sembra che anche questa discussione finale oltre alle importanti relazioni che abbiamo sentito oggi metta in luce un modo di riflettere su quegli anni e una serie di nodi relativi a quegli anni dopodiché tanto resta da studiare ce lo siamo detti in questo senso non ci aiutano molto le carte che sono state ricordate qui oggi rese disponibili dalla direttiva Renzi per una serie di motivi innanzitutto di metodo prima ancora che di contenuto qual è stato il metodo archivistico in base al quale sono state scelte il nesso archivistico tra le carte che sono state estrapolate da una serie e restituite ad una conoscenza ma soprattutto se sono tutte e con che criterio sono state scelte le carte relative alla vicenda di Ustica rese disponibili dalla direttiva Renzi e già versate all'archivio centrale dello Stato sono state depositate dall'Istituto Parri le abbiamo sommariamente guardate certo si possono studiare meglio ma pare che non emerga nulla di sostanziale cosa che sembra un po' strana perché sicuramente c'è di più ecco in questo campo ma è una questione aperta è una discussione in atto se ne è parlato l'8 maggio all'archivio centrale dello Stato a Roma quando è stata presentata la prima diciamo il primo esito di questi versamenti della direttiva Renzi se ne è parlato dal punto di vista archivistico se ne parlerà ancora dal punto di vista del contenuto ma certamente non pare che questa possa essere la soluzione per trovare nuovi documenti non tanto perché noi possiamo immaginarci che esista un documento che disvela chissà quale verità quanto per la possibilità di accedere a insiemi documentari che ci consentano ulteriormente di entrare in quel tempo di formulare ipotesi interpretative relativamente a quella stagione storica siamo stati scrupolosissimi nel rispetto dei tempi alle 19 dovevamo lasciare questa sala e lo faremo puntualmente domani mattina si affronta il convegno continua affrontando questi grandi temi dal punto di vista del contesto italiano innanzitutto con la redazione introduttiva della professoressa Simona Collarizzi che ringraziamo di aver accettato di partecipare a questo convegno e di darci una mano a capire il convegno domani mattina comincia alle 9 grazie a domani